Revocato l'obbligo di braccialetto elettronico per Eva Kaili, dopo quattro mesi in carcere e poco più di un mese agli arresti domiciliari, la procura federale belga ha concesso all'ex vicepresidente del Parlamento europeo la libertà vigilata. L'europarlamentare greca era stata arrestata a dicembre nell'ambito del Qatargate, lo scandalo di corruzione che ha coinvolto diverse persone inserite a vario titolo nelle istituzioni europee. Tra loro Francesco Giorgi, compagno di Kaili e braccio destro dell'ex eurodeputato alla testa del presunto giro illecito di denaro, Piero Antonio Panzeri.